Le attività di formazione di Aerone PG da sempre guardano al mercato del lavoro, quindi siamo qua a Iesi con disoccupati, con privati, con aziende, perché i corsi di saldatura di Aerone PG sono per chi vuole iniziare ad imparare un nuovo mestiere, e quindi partendo da zero, chi invece vuole aumentare la propria professionalità. La politica di Aerone è vicina agli strumenti che favoriscono l'inclusione delle classi difficili e delle donne. In questo caso, infatti, in questo corso abbiamo vari rifugiati che vengono da altri paesi e due donne che diventano saldatori. Si chiamano Andrea e Akter, sono due donne coraggio, con la voglia di entrare nel mondo del lavoro dopo aver aumentato le proprie competenze, in questo caso conseguendo il patentino di saldatrici, avendo seguito il corso di formazione Aerone PG all'Istituto di Istruzione Superiore Marconi Peralisi di Iesi. Vengo dall'Argentina, sono arrivata 15 anni fa. Perché partecipare a questo corso? Prima perché mi piace e poi vogliamo dimostrare che le donne possiamo anche farcela. Ecco, si pensa a quello della saldatura come a un mondo solo di uomini, invece no. Invece no, invece penso che le donne possiamo essere più precise. Ci sono tante richieste. Quando uno cerca lavoro, allora proviamo. Da dove vieni? Da Bangladesh, io ho 19 anni in Italia, è cittadinanza italiana, e c'è la famiglia qua, ecco, per lavoro, saldatura, mi piaceva. Allora ho aspettato tanti anni che Iesi un po', prima non aveva Iesi per le donne o la cosa, per sempre maschi. Allora volevo precisare che anche donne riescono a fare, lavorare come uomini e per questo è arrivato qua per fare corso. Speri di trovare a questo punto un lavoro, un'occupazione, dopo appunto essere diventata una saldatrice? Sì, spero che troviamo anche noi, lavorare come uomini, speriamo che aziende prendano anche donne, non lo so ancora, precisa, dopo vediamo che se con questo corso usciamo a trovare un lavoro meglio. Sono un idraulico di Osimo, provincia di Ancona, ho iniziato questo corso per mia pura curiosità, ne esco con dei grandissimi valori e grandissime cose che ho imparato, con i due docenti super preparati, pronti, pazienti. Quanto può servire allora per il lavoro che già svolgi? Tanto, serve moltissimo, questo corso apre molte, molte, molte strade. In un momento in cui magari si fa fatica anche a trovare il lavoro, più competenze si hanno meglio? Sì, ovvio, più competenze hai, più avrai sicuramente possibilità di lavoro.